Qual è l'esoskeletto? Abbiamo sviluppato un sistema fermo, basato sul uso di un dispositivo portabile, l'esoskeletto, per detectare l'esoskeletto dell'esoskeletto e per generare supporto per avere una recuperazione balance e per ridurre la probabilità dell'esoskeletto. Quando indosso l'esoskeletto, se io sento camminando, un aiuto in particolar modo come leggerezza, come più tranquillità della camminata normale. I principi blocchi principali del approccio dell'esoskeletto sono, prima, di designare un esoskeletto leggero. Secondo, di usare l'esoskeletto per la detectazione dell'esoskeletto dell'esoskeletto. Secondo, di poter generare supporto per aumentare la recuperazione balance dell'esoskeletto. E l'esoskeletto, magari ancora più importante che tutte le altre tre, è che questo è un approccio molto semplice e personalizzato. Il soggetto viene e, dopo un minuto, vediamo cosa possiamo fare per l'esoskeletto. qui vediamo l'esoskeletto. Qui vedete la struttura di meccanica, i morti, i sensori dentro dell'esoskeletto. e, anche per il corpo, vedete molti markers per ricordare le biomeccaniche del movimento mentre lavorare e mangiare la perturbazione. Quando la perturbazione è liberata, lo detecta questa abnormale lack di balance, e poi lo chiede al motor controllo il hip, per riportare le biomeccaniche in order to recover il balance as soon as possibile. Il nobretto di questo experiment è che, per la prima volta, un'esoskeletto e un'esoskeletto agire in reale e l'esoskeletto dare support per mitigare il rischio di falle. o a per o l'esoskeletto il Grazie a tutti